L'11 ottobre si è tenuto a Palazzo Renzo il Welcome Day per accogliere gli studenti stranieri all'Università di Bologna. Abbiamo intervistato alcuni dei ragazzi presenti all'evento. Siamo venuti a fare benvenuto ai nostri connazionali che arrivano da Ucraina e per essere riconosciuti abbiamo messo i nostri avcapi tradizionali ucraini che sono caratterizzati con la camicia ricamata e la gonna fatta anche alla casa. Siamo venuti a ricevere i nostri connazionali con un po' di calore e di colore come vedete che è la cosa che caratterizza la Repubblica Dominicana. Siamo della Repubblica Dominicana. Hi girls, where are you from? I'm from Japan. China. Where are you from? I'm from Palestine. Which courses are you going to attend here in Bologna? I'm enrolled currently in the genomics program and this is my first year. I'm from Peru. So, what did you choose to study in Bologna? I'm going to study Proietazione e gestione dell'intervento educativo nel disagio sociale. And what are you going to study here in Bologna? I'm already studying and this is the second year of medicine and surgery in English. What did you choose to study in Bologna? Oldest university in the world, great reputation and a beautiful city. So, I thought that would be a great opportunity as well. To me, I was so amazed about all the architecture and the history of the Bologna. And also, I love food, so food is really good in here and so that's why I chose Bologna. It's not only about studying, also lifestyle, so I like the lifestyle here, so that's why. Oh, no, because it's a world famous university and very old university, that's why. That's all good. Did you already sign up for the Younger card? Yeah. And what did you do it? Oh, I like to, like, see museum and so on. From Regione Emilia-Romagna. This is Regione. Uh-huh. 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 Grazie a tutti.